Togliere la memoria a una persona Buonasera. Togliere la memoria a una persona è come svuotarla, come rubarle l'identità. E prima di venire al Tadex di Lecce, lo sapevamo già, per esempio guardando Salvador Dalì nel suo quadro i cassetti della memoria. Ma dove sono questi cassetti della memoria? E sono davvero dei cassetti, davvero mettere degli episodi della nostra vita in memoria, un po' come riporre dei maglioncini o dei calzini in un sistema con tanti cassetti. Partiamo proprio dall'inizio, da quando si forma la nostra identità individuale. All'inizio noi siamo un tubo, un tubo neurale, che ha varie zone, visto in sezione. Il primo evento che ci accade, dopo circa quattro settimane dal concepimento, in termine tecnico si chiama evaginazione. Vuol dire che dalla parte anteriore del tubo neurale si estroflettono, vengono in fuori quelli che sono gli inizi dei due emisferi cerebrali. Poi l'embrione continua a svilupparsi. Nel corso delle settimane, questa parte anteriore del tubo neurale, i due emisferi, vengono a crescere sproporzionatamente sempre di più, fino a che nell'individuo adulto, visto in una sezione simile, naturalmente a scala diversa, abbiamo che gran parte del nostro cervello è diventato quello che noi chiamiamo corteccia cerebrale. È una parte che viene da una certa porzione del tubo neurale e essenzialmente è tutta un sistema che ha a che fare con la memoria. Però dentro questo sistema di memoria che occupa la gran parte del nostro sistema nervoso, c'è un pezzo particolare. È il pezzo che si sviluppa a partire dalla sezione in rosso del nostro tubo neurale. È quello che nell'individuo adulto diventa l'ippocampo. Adesso com'è che siamo diventati in sostanza delle macchine per la memoria? Allora per capirlo partiamo ancora più indietro, partiamo dalla creazione, da tutte le specie create dall'onipotente. Ci possiamo chiedere com'è che fra tutte queste specie siamo venuti fuori noi. Non è stato un processo casuale. Da Einstein sappiamo che l'onnipotente non gioca dadi, ma sono stati in sostanza altri due giochi. una è il gioco delle tre carte. È quando fra le tre classi di vertebrati avanzati, i rettili, i mammiferi e gli uccelli, l'onnipotente ha scelto i mammiferi. E poi, in una fase successiva, milioni di anni dopo, fra tutte le specie di mammiferi si è differenziata la specie umana con caratteristiche precipue del sistema nervoso e delle capacità della mente. Allora possiamo raffigurarci questi due processi in una maniera molto semplificata, schematica, in questo diagramma dove ho messo la struttura in una dimensione e la funzione nell'altra. E la prima cosa che succede è che i mammiferi in rosso si distinguono dai retti e dagli uccelli in blu e in verde. E qui il tempo va verso l'alto. Poi però, se continuiamo e cerchiamo di capire come si differenziano le varie specie di mammiferi, è come se l'albero si piegasse e il tempo adesso va verso destra. Perché questo? Lo capiamo andando a guardare dentro il cervello. Queste sono sezioni nel cervello di sei diverse specie di mammiferi. quello in cui ci riconosciamo che è di gran lunga il più simile a noi è il maiale, al centro, in basso. Ci sembrano diverse perché cambiano degli aspetti in realtà superficiali. Ci sono alcuni cervelli che hanno molte più circonvoluzioni e solchi e altri che sono più lisci. Però la loro struttura interna, l'organizzazione dei circuiti neurali, in particolare della memoria, è la stessa in tutti i mammiferi. E questo lo vediamo confrontando con invece una sezione di un cervello di un rettile, una lucertola. Adesso mettete l'attenzione su questa porzione della corteccia interna della lucertola, uno strato di cellule, con i pallini in nero, nei mammiferi. Qui è una sezione di un cervello di ornitorinco. Questo semplice strato di cellule diventa una cosa di più complessa. Ci sono come queste due C che si intrecciano l'una con l'altra. Sembra il logo di Gucci. Questo è l'ippocampo di un ornitorinco, che è in sostanza lo stesso dell'ippocampo di un ratto, o di un gatto, o di un uomo. Abbiamo tutti lo stesso ipocampo. Ed è diverso da quello dei rettili e degli uccelli. Un'altra parte della corteccia, la parte dorsale, nella lucertola è di nuovo un semplice strato di cellule. In un mammifero, come ad esempio in un echidna, diventa un sistema multistrato. Quindi sia l'ippocampo che la corteccia cerebrale sono diversi nei mammiferi rispetto a quello che erano nei rettili e sono diversi anche dagli uccelli. È come se la differenziazione dei mammiferi, dei rettili e degli uccelli fosse una differenziazione, un salto nella struttura del sistema nervoso, cioè una nuova struttura, è come un nuovo microchip. Invece la funzione non cambia con un salto così drammatico, cambia continuatamente. Questa è la transizione verso i mammiferi. Quando poi si differenziano le varie specie di mammiferi e abbiamo i vari cervelli dei mammiferi, abbiamo una situazione opposta. Abbiamo cervelli che variano sì nelle dimensioni, come potete vedere quello più in alto è il cervello umano, però la struttura interna è sempre la stessa, anche se ci sono delle ovvie differenze funzionali, cioè un salto funzionale almeno fra gli umani e le altre specie di mammiferi. Allora, se la struttura è la stessa, possiamo cercare di capire come la memoria funziona sulla base di questa struttura. Possiamo cercare di capire andando avanti sulla strada che è stata aperta da Brenda Milner 60 anni fa, studiando pazienti cerebrolesi, in particolare il paziente più famoso Henri Molasson era questo signore che per essere curato di un'epilessia particolarmente intrattabile ha subito, come si usava in quegli anni, una lobotomia. vedete che nel diagramma a sinistra è il cervello di H.M., Henri Molasson, dopo la lobotomia, manca tutto un pezzo che è il lobo temporale e include l'ippocampo. lui è rimasto una persona gioviale, sorridente e intelligente, come era prima di subire questa lobotomia, però è diventato amnesico, ha completamente perso la memoria, la capacità di ricordare le cose che gli succedevano nella vita di tutti i giorni. ha mantenuto alcune dei ricordi, dopo forse ne sentiremo parlare di un altro caso, diverso ma analogo a questo, ha mantenuto alcuni ricordi degli anni remoti della sua infanzia, ma ha avuto un'amnesia completa degli episodi e delle cose che gli sono successe negli anni dalla lesione e fino a quanto è vissuto, che è morto poco tempo fa. Il fatto che la struttura del sistema nervoso che si occupa della memoria, l'ippocampo e anche il resto della corteccia cerebrale abbiano la stessa organizzazione nell'uomo e nelle altre specie di mammiferi, permette di andare avanti sulla strada tracciata da Brenda Milner, spostandosi su specie nelle quali è possibile, è facile andare dentro il cervello e dentro l'ippocampo, la struttura in rosa, in un roditore nel diagramma in basso, e dentro vediamo quella struttura interna con questa doppia C, colorato in particolare è questa regione che è così particolare il giro dentato, di cui non ho tempo di raccontarvi le caratteristiche sorprendenti, però vi posso dire in una slide cosa fanno queste cellule del giro dentato. Lo sappiamo dagli studi di John O'Keefe che ha avuto il premio Nobel nel 2014 e che ha studiato cosa fanno i neuroni nell'ippocampo di un ratto quando il ratto semplicemente cammina nell'ambiente. e quello che ha visto è che ci sono neuroni che rappresentano ciascuno una posizione nell'ambiente. Il neurone si attiva quando il ratto passa attraverso una specifica posizione dell'ambiente. Questa posizione però non è stata assegnata a quel neurone dal codice genetico, come abbiamo sentito prima, o non gli viene da dove è il neurone dentro il circuito. È un'assegnazione casuale. È come se a ciascun neurone dell'ippocampo venisse assegnata una parte per rappresentare quello che sta succedendo all'animale. Il neurone è come un attore che gli dice tu adesso ti occupi di rappresentare questo. Questi neuroni dell'ippocampo devono rappresentare il fatto che l'animale in quel momento di tempo si trovi in una certa posizione che è diversa da neurone a neurone. Adesso questa capacità dell'ippocampo di distribuire i suoi neuroni come attori per mettere in scena qualcosa che sta succedendo all'animale è la base del ruolo dell'ippocampo nella memoria. Le memorie si formano nell'ippocampo perché nella corteccia non si potrebbero depositare così rapidamente le esperienze come noi le viviamo. Allora vengono assegnate a ciascuna esperienza una rappresentazione, una specie di dramma che viene svolto nell'ippocampo da attori, i neuroni che si prestano a questo e che poi lo rappresentano alla corteccia, a tutte le altre zone della corteccia tante e tante volte fino a che la memoria si consolida nella corteccia. Quelle memorie che vale la pena di rappresentare perché l'individuo le vuole ricordare. Allora questa immagine che ne esce da questi studi è quella di una memoria nella corteccia che non è un semplice golfino riposto in un cassetto ma è un qualche cosa di dinamico, di cangiante come i Camembert, gli orologi della persistenza delle memorie di Salvador Dalì. La memoria è un qualche cosa che ricreiamo ogni giorno godendoci lo spettacolo che ci dà il nostro ippocampo. Grazie.